buongiorno benvenuti buongiorno a tutti allora siete pronti a chiamare la mondial casa fatelo subito a questo nuovo numero facilissimo 848 800 800 la telefonata non è impegnativa serve solo per notare la visita di un addetto mondial casa che verrà direttamente a casa vostra per mostrarvi tutto questo lì valuterete l'offerta deciderete se acquistare o meno ma lo farete perché ne vale assolutamente la pena 848 800 800 e come ne vale la pena e poi terrete tutto a casa vostra se deciderete di acquistare ma come si fa a non acquistare 598 mila lire iva compresa per tutte queste pentole pentoli in acciaio 18 10 e soprattutto pentole mondial casa batteria completa mondial casa nuova batteria millennium tutta fatta per voi apposta per voi da questa grande azienda italiana ma in più compreso in questo prezzo già piccolissimo ci sono altri tre prodotti c'è l'apparecchio per conservare più a lungo i vostri cibi c'è lo stereo hi fi con tre posizioni per il cd e c'è anche il televisore a colori 14 pollici con telecomando insomma quattro prodotti 598 mila lire iva compresa 26 mila lire al mese se volete pagare la rata e la prima rata la pagherete il primo ottobre quindi passeranno mesi e poi la prima rata sarà pagabile in maniera veramente facile perché meno di mila lire al giorno 26 mila lire al mese sono davvero poche e poi guardate la qualità di queste pentole guardatele un po allora guardiamo il fondo fuso alto un centimetro per diffondere uniformemente il calore quindi cibi non attaccano marchiano mondial casa garanzia di qualità e con mondial casa potete cucinare in tanti modi avete visto qui il coperchio salvagoccia che rovesciato diventa un comodissimo sottopentola e poi ecco la leva per sollevare la griglia per la cottura a vapore il termostato per sapere all'interno la temperatura e quindi funziona praticamente come un forno bisogna telefonare per vedere tutto che avrete tolto l'aria nel cesso e così il cibo verrà conservato più lungo in più anche lo stereo il comando e poi 100 watt di potenza complessive per le casse e in più anche il televisore a colori 14 pollici con telecomando è compreso nel prezzo 598 mila lire iva compresa dicevo 26 mila lire al mese se vorrete pagare la rate ma se non volete lo stereo il televisore perché avete già uno così ma potete sostituirli con un altro prodotto e tutti questi prodotti che adesso vedremo arrivano comunque a casa vostra senza impegno e potranno rimanere direttamente già a casa vostra 848 800 800 forno a microonde oppure la coperta matrimoniale in morbida e calda lana merino sgarantita pure lana vergine l'ideale per le fredde notte invernali oppure potreste scegliere la mountain bike cambio shimano 15 rapporti bellissima anche questa di grande valore 848 800 800 approfittatene o ancora l'antenna parabolica satellitare con decodificatore per ricevere ben 500 canali dall'estero oppure potreste scegliere il ferro da siro professionale con caldea separata a vapore a pressione e allora 848 800 800 598 mila lire iva compresa con mondial casa quindi pochissimo per quattro prodotti tutte le pentole mondial casa in più lo stereo in più il televisore a colori in più l'apparecchio per conservare più lungo i vostri cibi quindi prendete la cornetta mondial casa vi aspetta 848 800 800 26 mila lire al mese chiamate si è belli fuori quando si è puliti dentro e per essere puliti dentro basta fare multa rocchetta la leggera depura l'organismo perché stimola la diuresi rocchetta la tua acqua di bellezza è l'acqua di miss italia rocchetta puliti dentro belli fuori ci sono piatti normali e piatti che sono un tesoro la differenza il tesoro della cucina provatelo fagottini a sorpresa arrosto farcito crostata d'uva ricette tradizionali che rischiavano di andare perdute e che io ho ritrovato nelle cucine delle cuoche più brave d'italia sei un tesoro grazie il tesoro della cucina l'unico che vi dà in più gli stampini in rave da collezione in edicolo alla prima uscita a sole 500 lire di agostini idee d'anne grazie grazie grazie